Buongiorno ragazzi, ecco perché sto vendendo i miei bitcoin. Ho deciso di fare questa scelta, nonostante la reputi molto particolare e azzardata, anche perché sono sempre stato dell'idea old bitcoin tutta la vita, bla bla bla. Però ho un certo holding di bitcoin e sono particolarmente in profitto. Questa è la fascia di acquisto principale dei miei bitcoin e puoi capire tranquillamente quant'è il profitto. Siamo peso a più di un per due, comunque ho raddoppiato il capitale investito. E quello che ho deciso di fare è, dato che ci troviamo in una zona, e te l'ho detto anche nella scorsa analisi, in cui mi aspetto di raggiungere magari zona 50.000 dollari, non sappiamo esattamente se ci arriviamo. Comunque me lo auguro, ho ancora un bel po' di holding bitcoin da vendere, adesso ho venduto solo una piccolissima parte in questa zona che era lo 0,5 di Fiboracci e adesso stiamo continuando a salire. Quindi andrò a fare una specie di DCA out, quindi un dollar cost averaging, a uscire come qui acquistavo ogni giorno per entrare nel mercato e anche in quest'altra zona comunque un pochino, perché ero ancora sottoesposto magari su Ethereum, ma te l'ho già raccontato in un altro video, adesso faccio la stessa cosa vendendo parzialmente, quindi magari ogni giorno vendo un tot, fino a che non arriviamo magari in questa zona. Non so esattamente se ci arriviamo, se arriviamo un po' più in alto, quindi evitando di prendere il top, perché non so se prenderò mai il top di mercato, mi piacerebbe, e magari in questa zona poi rimango anche scottato, perché non è detto che arrivato qui, poi bitcoin ritraccia. E quindi in questo caso una percentuale di bitcoin probabilmente l'atterrò in portafoglio, anche se arriviamo in quelle zone. Adesso ho venduto veramente una piccola zona qui, anche al prezzo attuale potrei vendere una piccola parte, comunque ogni giorno, ogni settimana posso vendere una quantità di bitcoin, anche qui, e così via, man mano inizia a scaglionare le uscite e tenere un po' di stablecoin, o entrare in progetti adcoin che reputo interessanti e che possono fare bellissime performance. Ci sono due zone interessanti, che ti ho già detto in altri video, che sto osservando per rientrare poi magari in bitcoin. Una è questa dove vedi la freccia, che è di nuovo sui prezzi praticamente vicini, comunque 40.000 dollari, e l'altra coincide con un po' più sotto, 35, 33, mi piacerebbe vedere poi anche uno sfondamento di questa zona per rientrarci, ma non sappiamo mai quello che succede. E quindi per evitare di cercare di prendere il top, il tempo perfetto di mercato, che è veramente difficile, vado sicuramente a seguire il mercato in maniera un po' più interessante, diciamo con DCA, quindi a muovermi a scaglioni. Al momento, questa settimana, che è appena iniziata, siamo a mercoledì, abbiamo lo 0,5 di Fibonacci, che è un ritracciamento dal top al bottom, e lo 0,61,8. Se chiudiamo la settimana sopra allo 0,5 potrebbe essere molto rialzista per avvicinarci ancora di più allo 0,61,8, quindi sicuramente è molto interessante cosa bullish per questa settimana. Non è detto che lo chiudiamo così la settimana, abbiamo avuto ieri dei dati per quanto riguarda l'economia, anche oggi avremo altri dati per quanto riguarda l'economia, e adesso tutto questo pump lo stiamo avendo sempre con lo scenario Bitcoin Spot ETF, perché c'è BlackRock che sta modificando l'ETF, quindi la cosa scontata del fatto che verrà approvato è sempre più vicina, nel senso c'è sempre più approvazione o scenario che andrà approvato questo ETF. Non è detto, visto che il mercato lo sta già scontando, stiamo già partendo bene a razzo, che quando verrà approvato poi andremo a fare chissà che pump, quindi c'è sempre il buy the news, sell the rumors, viceversa, e quindi adesso buy the rumors and the news, quindi adesso c'è il rumors e poi quando c'è la notizia magari vediamo il dump di chi prende profitto e dice ok è uscito, allora prendiamo profitto e basta. Io inizio a fare un pochino di uscita, tranquilla. Come ti ho già detto, in community sai già che puoi vedere tutto quello che sto facendo, quindi entra se vuoi in community, è gratis, c'è il link in descrizione per anche il Discord e tutto questo ti consiglio di andarlo a vedere tranquillamente. Io è quello che sto facendo. Sbaglierò? Farò giusto? Chi lo sa? Comunque quello che faccio io non ti consiglio assolutamente di farlo. Ci sono tante persone che stanno entrando adesso in Bitcoin, io fortunatamente, seguendo il mercato da parecchio tempo, sono entrato qua sotto e non ora. Ora, visto che alcune altcoin non le ho seguite, mi stanno stuzzicando, ma entrare ora in alcune altcoin non mi piace, quindi sto cercando dei progetti particolari che mi piacciono molto, che sono anche un po' più sottovalutati, ma sono difficili da trovare in questa situazione di mercato, dato che sono belle partite, alcune hanno fatto anche per 10 tranquillamente, o anche di più, e quindi per quanto riguarda le altcoin le vedremo nel portafoglio, nel progetto Dejan Journey, ti lascio il link in descrizione anche di quello. Sicuramente questo è un nuovo channel, a me piace fare trading quando sono in una situazione del genere, ma uscendo dal channel non mi piace più, tra virgolette, fare trading, non ho chissà che conferme. Quindi arrivato in questa zona potrei valutare, oltre a vendere la parte dei miei bitcoin, anche di shortare a livello di trading in leva. Non è detto che ci arriviamo, non si sa quando ci arriviamo, comunque è un grafico weekly, quello che stai guardando, non lo sa se il bitcoin veramente stia pompando a razzo. Anche questa settimana che è appena iniziata siamo quasi un 10% di profit. Le settimane precedenti ha fatto un 15%, ha fatto un 6%, abbiamo avuto un po' di lateralizzazione, e quello che vi posso aspettare in questa fase è di vedere magari scenari del genere. Quindi un periodo in cui stiamo a lateralizzare qui sopra. A lateralizzare qui sopra è come abbiamo fatto in queste tre settimane, o comunque l'ultimo mese, dove bitcoin è stato praticamente piatto. Piatto a fare choppy market, un po' come questa fase diciamo. Lateralizza, lateralizza e in questo caso potrebbe essere un po' di distribuzione, non accumulazione, mi aspetto. E quindi distribuire i profitti. Distribuire i profitti significa che gli investitori o i grossi investitori in questa fascia, magari, o in tutto questo canalone, in qualcosa del genere, vendo una parte di bitcoin per poi magari dare una steccata più ribasso per poi ripartire forti. Quello che potrebbe succedere? Non lo so, ma sicuramente mi aspetto uno scenario del genere. E vediamo cosa succederà. Questa freccia comunque è quello che mi aspetto il prima possibile, tra virgolette. Quindi andare qui sopra e poi scendere di nuovo qua sotto. Qua sotto da vedere poi se regge come supporto, quindi 40.000, o andiamo ancora più giù. È una cosa che mi piacerebbe vedere molto di più per acquistare in maniera più interessante. Quando torniamo qui, se ho già in alto venduto una grande parte dei miei bitcoin, qui sotto posso iniziare ad accumulare e poi accumulare magari con DCA. Quindi accumulare, se scendiamo, accumulo, accumulo, accumulo. Se scendiamo qui, accumulo ancora di più e così via. Quindi iniziare un accumulo o distribuzione graduale. Anche in questo caso ho venduto gradualmente. Più si sale, più posso dire vado a vendere sempre in maniera più grande. Grazie per essere stato con me. Ti ricordo in descrizione di andare a vedere link, bonus e quant'altro. Fammi sapere la tua visione su bitcoin o quello che stai facendo ad oggi. Grazie per aver guardato il video.